salve a tutti da segni di terroir il video di oggi vuole che come protagonisti siate voi coloro che guardano che mi seguono e che apprezzano questi contenuti perché faccio questa richiesta perché con tanti video che ci sono su youtube tante informazioni c'è veramente un mondo di informazioni però quello che vi voglio chiedere di fare parte attivamente a questo progetto quindi il mio invito essendo proprio un video breve è quello di scrivere nei commenti che cosa volete che cosa vorreste che trattassi come tematiche che cosa volete che dimostri ovviamente in parallelo oltre le lavorazioni che stiamo facendo nel vigneto ci sono le interviste devo ampliare questo questo mondo perché ci tengo tantissimo a mettere in collegamento le persone che appunto del mondo del vino e soprattutto voi spettatori perché in questo modo si riesce a far conoscere direttamente e immediatamente il produttore questo è proprio per in un certo modo eliminare le barriere quindi appunto proprio una richiesta che vi faccio con con il cuore di sapere che cosa volete perché in questo modo farò il possibile per poter soddisfare le vostre richieste che possano essere temi trattati e che si legano al vino oppure dei temi che magari si trattano sulle malattie eccetera eccetera quindi spero di essere stato chiaro ma soprattutto che mi aiutate vi ringrazio un saluto grazie a tutti